In Nigeria c'è una popolazione. Alcuni uomini, in questo caso della tribù dei Borno, originari della Nigeria nord-orientale, sarebbero in grado di mutare forma, di trasformarsi poi nella notte in uomini leopardo al tropomorfi o uomini iena. Gli esseri umani che si trasformano in animali selvaggi sono così radicati nella nostra convinzione ancestrale che nei paesi ad esempio dove non ci sono i lupi, come l'Africa, si sostituisce con altri animali, come leopardi, leoni, ecc. Il mito del leopardo mannaro è diffuso soprattutto in Africa occidentale e incentrato sulle tribù dei cosiddetti uomini leopardo appunto. Ci sono anche delle cerimonie di alcune persone che usano appunto delle pelli proprio di leopardo per rievocare la trasformazione, mentre nella regione asiatica dell'Assam, del Myanmar, ci sono i uomini tigre. Alcune persone dotate di poteri sarebbero in grado di trasformarsi in enormi tigri antropomorfe, metà uomo e metà animale appunto.